Sul Gran Sasso si scia sino al primo maggio, compreso dunque il ponte del 25 aprile, occasione ghiotta perché c'è tanta neve anche se in questi giorni, oggi per esempio la stazione è chiusa, si è condizionati dal maltempo, nel weekend di Pasqua i numeri si sono fatti soprattutto il venerdì, ad ogni modo la neve c'è e la speranza è di proseguire ancora a lungo. La neve è tantissima, eravamo prudenti sino al 25 aprile ma adesso sicuramente si arriverà al primo maggio perché è talmente tanta che è impossibile non arrivarci, l'importante è che adesso cambi un po' direzione la tendenza del tempo e faccia più bel tempo. Una stagione in rilizia del ritardo proprio a causa della mancanza della neve, poi è arrivata, possiamo tracciare un bilancio, è stato positivo? Allora il bilancio certo, il primo step è stato tragico insomma, abbiamo recuperato in parte, certo è stata una stagione breve ma molto molto intensa quindi siamo soddisfatti comunque. Dopo il Giro d'Italia partiranno finalmente anche i lavori veri e propri all'albergo che ospitò la prigionia di Benito Mussolini sul Gran Sasso. Sì sì, dopo la tappa del Giro, speriamo sarà uno spettacolo, tutte queste cornici di neve ci saranno, partiranno a sfrombattuto i lavori prima della zona servizi e poi la cantierizzazione dell'intero albergo.